Torna il raduno di Auto e Moto Storiche, Luca Bichi, la CNA, organizza questo importante evento che è arrivato alla sua dodicesima edizione. Sì, è un evento molto importante di Auto e Moto Storiche, organizzato ormai da 12 anni, escluso il periodo della pandemia, e ha sempre avuto un grande successo, questo è la base di tutto. Presidente Serafini, come si svolgerà questa importante manifestazione? Speriamo di avere buon tempo, che è fondamentale perché molte auto storiche sono Spyder e le moto sono soprattutto scoperte. Noi partiremo dal parcheggio Mecenate e dalle otto e mezzo prenderemo le iscrizioni. Speriamo di raggiungere lo stesso numero di anno scorso, circa 250 iscritti. Poi alle 10 partiremo e andremo a Castiglione Fiorentino. Finito questo parcheggio lì a Castiglione Fiorentino, ripartiamo e andiamo a Ruscello, passando da Manciano, Scesa, Montagnano. Finito il pranzo, partiamo e andiamo alla cantina sociale. Alla fine di questa sosta ripartiremo, torniamo ad Arezzo e andremo al Duomo, passando da Via Guido Monaco, Cavourre, Corso Italia, al Duomo dove ci sarà qualcuno che ci benedirà. Non sappiamo se Don Alvaro o il Vescovo e speriamo di finire così in bellezza con le maschere del carnivale di Castiglione Fiorentino.